Raddoppia la tassa di soggiorno per le strutture ricettive bassanesi, ma gli albergatori non lo sanno. Oppure qualcosa sanno, ma non c'è nulla di scritto. E come è già accaduto nella comunicazione, o non comunicazione, da parte dell'amministrazione Pavan con la città, alla fine il pasticcio è dietro l'angolo. Quello che è accaduto per me è sorprendente. Ho letto attentamente le dichiarazioni prima dell'assessore, poi le dichiarazioni del presidente degli albergatori, e poi nuovamente le precisazioni dell'assessore, e mi sono fatto l'idea che sono fatto un pasticcio, un pasticcio molto grosso. Una faccenda spinosa dalle ricadute potenzialmente enormi, come il raddoppio della tassa di soggiorno, non si gestisce a cuor leggero o con una telefonata, ricorda Poletto. Io credo che l'amministrazione si sia mossa molto male. Da un punto di vista di metodo, normalmente in questi casi non si fa una telefonata, e penso che sia vero che sia stata fatta, poi sui contenuti diranno le due protagoniste, ma non è una telefonata che regola un raddoppio di una tassa di soggiorno dopo due anni di Covid. Una questione traballante sia nel merito che nel metodo, che rischia di lasciare profonde ferite nel territorio. Non condivido per nulla nel metodo, sono preoccupato perché se questo è il modo di condurre i rapporti con le categorie economiche e anche con i comuni con termini, temo che poi ci sarà molto da ricostruire nei prossimi anni. C'è il rischio che questo raddoppio della tassa vada a penalizzare le strutture ricettive di Bassano che il settore turistico della città ne risenta? Ma questo lo hanno già detto gli albergatori, quindi io dico di sì perché trovo conferma in questo timore proprio dei protagonisti di questo settore. e loro hanno detto che noi rischiamo che anche per due euro, perché ormai stiamo misurando euro per euro, questi due euro possano fare la differenza.